Si trasferisce a Napoli il processo dell'isochimica di Avellino, dove le carrozze ferroviarie venivano separate dall'amianto. A conclusione dell'udienza svoltasi oggi presso il Tribunale del Capologo Irpino, la Presidente del Collegio Sonia Matarazzo, giudici all'Atere Gennaro Lezzi e per Paolo Calabrese hanno comunicato la decisione alle parti, motivandola con le difficoltà logistiche e gli spazi insufficienti dell'aula nella quale si svolge il processo, nel quale compaiono centinaia di parti civili e decine di avvocati. Il problema era stato sollevato nelle precedenti udienze dal procuratore capo di Avellino Rosario Cantelmo, il magistrato che aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per 26 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, lesioni dolose, concorso in disastro ambientale e omissioni di atti di ufficio. I tentativi per individuare sedi alternative e far restare il processo di Avellino si sono conclusi con un nulla di fatto. Le possibili sedi individuate da una commissione presieduta dal prefetto di Avellino Carlo Sessa, nell'ordine il centro sociale Samantha della Porta e il salone dell'assemblea della BPR non sono risultate idonee e attrezzate. La prossima udienza fissata per il 26 maggio si svolgerà nell'aula bunker del Tribunale di Napoli.